andiamo, continuiamo quest'ultimo blocco di 10 minuti con il giornalista Marco Narcisi scusa, perché questi nomi italiani parliamo di informazioni e fake news e il fatto che il web designer non deve essere chiuso nella sua torre d'avorio lui ha lasciato la Sicilia per andare in Svizzera per trovare la sua missione nel media e informazione ha lavorato per tante piccole attività era pagato in natura posso dirlo o no? era bottiglia di vino, cene gratis e delle cose così coordinatore del WordCamp Italy WordCamp Milano e anche Lugano Wordpress Meetup un applauso per Marco allora, buongiorno chi sono? io nasco web designer e tramite vari giri sono finito a fare il giornalista e partendo da un laureo in scienze politiche quindi praticamente ho fatto il giro è un'identità segreta allora Wordpress nasce fondamentalmente come piattaforma di blog quindi in cui uno scrive quello che pensa da qui è chiaro che il passare da scrivere pensieri e opinioni a scrivere i propri articoli e poi a dare notizie è abbastanza immediata anche perché ci sono dei temi che permettono, strutturati esattamente come dei giornali che permettono di creare abbastanza facilmente un giornale online e tutti possono farlo e il problema è proprio questo che tutti possono farlo il bello appunto è che cosa ha dato Wordpress al giornalismo all'informazione e quali sono invece i lati oscuri il bello è che possono nascere progetti indipendenti possono nascere portali di informazione anche locale adesso farò degli esempi il brutto è che purtroppo può essere usato anche da persone che hanno niente a che fare con il giornalismo e con l'informazione per semplicemente lucrare e monetizzare su disinformazione su complottismi vari non sto neanche a fare esempi perché sappiamo più o meno creduti di che cosa parliamo i vantaggi di Wordpress per il giornalismo che è un capensus che è personalizzabile che c'è un sacco di temi per i giornali e anche chi non sa usare non ha grande dimestichezza può usarlo aveva un collega che non aveva idea di cosa fosse Wordpress e gestiva tranquillamente un portale di notizie senza nessun problema cosa diciamo i vari campi di utilizzo più frequenti la versione online di quotidiane cartacee anche noti il sito del fatto quotidiano è Wordpress la Sicilia un quotidiano siciliano la voce sono tutti giornali cartacee che hanno un equivalente in in online infatti Wordpress o giornali solo online ma di ambito locale lui notizia e varie 6 news che peraltro ci vengo a dirlo è stato votato come uno dei dieci siti più affidabili in Italia dal consorzio NewsGuard oppure possono lasciare progetti grossi e indipendenti come il Post che è specializzato in approfondimenti Open che è il giornale fondato da Enrico Bentana e anche questo considerato uno dei massimi portali a livello di fact-checking in Italia oppure realtà come Lettera M che è un giornale online solo online di Messina ma che è specializzato soprattutto non tanto in cronaca locale come tanti ma in fact-checking e data journalism e inchieste a livello locale ed è anche questo fatto nasce da cinque giornalisti che sono messi insieme e poi è finita a produrre un magazine cartaceo dopo ma e questo dedico un po' spazio a questo c'è un lato scuro ovvero l'uso distorto dei WordPress per creare siti che sembrano giornali e non lo sono bene che ci vada se siamo fortunati saranno siti di notizie satiriche prettamente inventate chiaramente dichiarate come tali giusto per ridere chiaro che ci sono gli ads ci sono le pubblicità anche loro monetizzano ma non fanno del male nessuno a meno che qualcuno non li prenda sul serio ma fa niente sono innocui ma c'è anche qualcuno che non fa affatto ridere e parliamo di tutta quella serie di portali che sembrano giornali ma che non fanno altro che diffondere disinformazione complottismi vari a sfondo spesso anche razzista discriminatorio ce ne sono una quantità infinita purtroppo alcuni li ho citati sono Fox News e Mola oggi sappiamo benissimo cosa fanno notizie distorte notizie inventate foto di un certo contesto spacciate per un altro contesto tutto chiaramente con lo scopo unico è soltanto di monetizzare di fare click sfruttando chiaramente quello che è il titolo sensazionalistico che ti acchiappa il click è quello che è anche la tendenza a credere a quello a cui vogliamo credere spesso perciò come sto andando in fretta come possiamo fare a più o meno a renderci conto con chi si abbia anche a fare con un progetto serio o con un avvelenatore di pozzi un progetto serio ci mette la faccia noi sappiamo chi sono chi è il direttore responsabile chi è l'editore chi sono i vari capi redattori sono chiaramente indicati nel sito gli articoli sono firmati cosa che nei siti di altro tipo non esiste cosa che è molto importante perché se io subisco una diffamazione da un giornale importante ho il nome e cognome io so esattamente a catena chi è il responsabile se l'autore è anonimo si risale in questi siti no è impossibile bisogna andare a fare proprio una denuncia a capire esattamente chi sta dietro che spesso addirittura non si riesce neanche facilmente a rintracciare perché si nascondono abbastanza bene a livello grafico chiaramente chi fa un portale serio si affida paga un grafico paga un designer usa soprattutto foto pagandole pagando gli archivi indicando la fonte anche per una questione anche di serietà per avere foto effettivamente sempre attualizzate chi usa siti di altro tipo prende foto al web prende template disegnale dal cugino prende foto al web spesso consapevolmente per andarle a porre in contesti che non sono quelli a cui si riferisce la notizia per gente da cui stare molto lontani a livello di contenuto questo è abbastanza semplice come dove possiamo cominciare a sospettare qualcosa se la notizia è troppo eclatante se è troppo bella per essere vera probabilmente non lo è se sentiamo che quella notizia ci dà ragione noi siamo effettivamente d'accordo stiamo attenti perché appunto spesso c'è il bias di conferma per cui noi tendiamo a dare a ritenere vero quello che conferma le nostre opinioni e spesso purtroppo anche a condividerlo tutte le volte che diciamo ecco guarda anche lui la pensa così anche questo la pensa così la notizia sembra inverosimile se lo è probabilmente lo è e soprattutto questo è un po' più subdolo se i fatti sono mischiati alle opinioni ora apro una piccolissima parentesi il giornalismo non è per me solo dare le notizie c'è la famosa frase se uno ti dice che piove uno che non piove tu ti affaccia alla finestra e ti dici se piove e vedi se piove ma non è solo questo se io voglio questo tipo di notizia io mi leggo le agenzie di stampa il giornalista è quello che ti guarda se piove ma magari ti spiega anche perché piove cosa succede se sta piovendo ti fa un'analisi anche mettendoci lo suo è legittimo che ci metta lo suo l'importante è sempre che quello che è articolo di commento sia chiaramente marcato come articolo di commento e nei siti seri è così si riconosce chiaramente un articolo che è l'opinione dell'autore da quello che è cronaca in questo tipo di siti è un full lato nello stesso articolo si vede chiaramente il giudizio spesso pesante e discriminatorio di chi scrive che in genere non è mai un giornalista professionista ci sono nomi abbastanza famosi nel campo anche in Italia potete andare a cercarli poi si trova in giro casi abbastanza famosi di persona X possessore di 2, 3, 4, 5, 10 siti di questo tipo oltre che di un BNB quindi WordPress comunque ha dato una grande opportunità al giornalismo quello che abbiamo visto prima progetti veramente seri e che possono essere fatti anche a costo non diciamo zero però facilmente è uno strumento potente per dire anche quello che abbiamo da dire vogliamo fare un giornale online facciamolo ma con delle regole quindi seguendo la deontologia quindi verificando i fatti verificando le fonti soprattutto nel dubbio non pubblicando se non abbiamo solo intenzione di guadagnare e se vogliamo raccontare anche la nostra verità che può essere opinabile personale ma basata su fatti comunque contestabili e sta tutta la nostra quindi di fatto è una questione di far lucrare e informare è una questione di coscienza se ce l'abbiamo io ho finito fra 40 secondi e vi ringrazio grazie Marco piccolo regalo da noi grazie Marco grazie a tutti grazie a tutti